Sono sorrubilizzato sull'omosessualità, prendendomi in istituto di essere gay senza dire le brutte parole che dunque hanno stato nei miei compronti, poi svuotandomi il tè nello zaino, minacciandomi che mi avrebbero picchiato, eccetera, eccetera. Comunque tenendomi tutto dentro, non ho supportato tutto ciò e sono andata in ospedale per attacchi di panico, perché comunque è la situazione.